I promotori di Tolentino Expo sono al lavoro per predisporre tutti gli aspetti organizzativi della nuova edizione 2018 della rassegna che sarà aperta alla partecipazione anche di imprese dei territori del cratere marchigiano oltre che di aziende provenienti da altre province ma anche da altre regioni italiane e dall'estero. L'evento viene promosso con cadenza biennale dall'amministrazione comunale di Tolentino con l'intento di promuovere le eccellenze del territorio ma anche le produzioni tipiche locali. Tolentino Expo ha conquistato sempre più il consenso entusiastico degli espositori, della cittadinanza, dei visitatori nonché delle delegazioni straniere che nel tempo hanno allacciato rapporti sempre più stretti e profiqui con il sistema produttivo e con le istituzioni locali. La rassegna ha avuto diversi riconoscimenti tra cui il patrocinio di Padiglione Italia nell'ambito dell'esposizione universale 2015 di Milano. La manifestazione si svolgerà nel periodo che va dal 17 al 21 ottobre nel centro di Tolentino. L'esposizione sarà costituita da circa 80 stand occupati da ditte prestigiosi inseriti nelle cornici dei padiglioni fieristici. L'amministrazione comunale ha già deciso di dare il suo sostegno. Parteciperà con una spesa di 136 mila euro. Il costo preventivato per l'edizione 2018 ammonta a 156 mila euro.